È peccato perché è stata una grande partita, quest'anno tanto con noi è andata così. Noi tiriamo, creiamo tante occasioni ma ne raccogliamo pochi i frutti che facciamo. Maramao oggi è grande spolvero, Mosciatti secondo me è uno dei giocatori più forti della Lega Calciotto. Complimenti anche a loro, ora ci sarà ritorno, noi partiamo con un gol sotto e speriamo di vincere la prossima e salvarci. Facciamo i scongiuri perché c'è ancora un'altra partita, speriamo che non sia quella della partita dell'imbarcata. Allo Sport City giochiamo per vincere, basta, non ci stanno risultati, statistiche, Lega, classifica a forza. Allo Sport City bisogna vincere, vince chi fa un gol in più, quindi 5-3, 1-0, 5-4, 3-2, basta che vinciamo. Anche perché abbiamo una grande squadra contro e noi oggi stasera, anche stasera mancavano due grandi giocatori, speriamo di recuperarli per la prossima. Però chi è venuto, ragazzi, sono quelli che sono venuti sempre, col freddo, con la grandine, con sempre. E quindi ci meritiamo di non retrocedere. In bocca al lupo di cuore al presidente Patrizio Mastropietro. Grazie. Grazie.